Siamo venuti qui perché purtroppo la nostra categoria è messa alle strette, adesso non ce la facciamo più. Vogliamo rieprire i mercati, anche perché noi siamo nelle condizioni di mantenere tutte le distanze di sicurezza possibili e immaginabili, ovviamente. Quindi, siccome siamo senza lavoro, stiamo vedendo tutte le altre categorie che stanno aprendo, i grossi centri commerciali, i negozi che stanno vendendo un po' di tutto. Noi che vendiamo abbigliamento uomo, donna, la categoria che vende prodotti per adulti, siamo tutti chiusi. Non veniamo qua a chiedere dei ristori o qualcos'altro, vogliamo semplicemente chiedere il nostro diritto che è quello del lavoro, solo questo qua. Quindi vediamo adesso con una delegazione, perché se non ci fanno aprire, noi quando sarà la settimana prossima, dopo il 15, faremo le forzature con le aperture, perché noi non ce la facciamo più. Ognuno di noi abbiamo una famiglia da portare avanti con i vari problemi che ci sono a livello commerciale, quindi dobbiamo fare qualcosa. Siamo qui alla regione oggi della Calabria per manifestare in forma pacifica la situazione che si sta generando nei mercati, perché fino adesso, sempre in modo pacifico, abbiamo fatto le cose per bene, mantenendo gli ordini che il DPCM ci ha messo in atto e noi li abbiamo eseguiti con molta scopolatezza in merito alla situazione. La cosa che in questo momento non ci va più è che vediamo in giro, ahimè dirlo, dei negozi, e non voglio fare sempre il razzista perché non lo sono, però noi vediamo un casino di negozi aperti dove vanno ad esercitare e a vendere i nostri prodotti, dove praticamente ci portano in condizioni di... cioè la classica situazione dove loro sì e noi no, anche se loro hanno la possibilità di aprire, però non mettono vincoli sui prodotti. Ci sono dei negozi dove praticamente mettono dei settori di prima necessità e dove ci sono dei negozi dove hanno anche gli articoli che noi vendiamo nel mercato, tipo abbigliamento, calzature, dove non si devono vendere. Purtroppo non è così ed è questa la cosa che a noi in questo momento ci crea un pochettino di disagio. Quindi le nostre cose sono, noi non vogliamo nessun ristoro da nessuno, anche perché il ristoro che ci hanno dato l'anno scorso, perché stiamo già parlando di 13 mesi, no, di un giorno, sono state cose molto irrisorie. Dopodiché c'è stato il nulla. Qui si alzano, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo e che cosa chiudete? Chiudete solo l'attività ambulantato e chiudete solo, ahimè, i ristoranti, i pub, le discoteche e le palestre. Grazie.